Parlando di mettere d'accordo anche persone molto diverse tra loro, un aspetto fondamentale che accomuna entrambe queste reti di movimenti è il fatto di creare dialogo, creare rete verso un obiettivo o degli obiettivi comuni che siano la lotta contro la grande opera o che sia in generale la giustizia climatica, ambientale oltre che anche sociale. Questo è un po' anche quello che abbiamo voluto fare realizzando questo festival anche se non in contemporanea al festival dell'economia che si è tenuto online abbiamo voluto creare uno spazio di discussione su diversi temi, uno spazio aperto in cui confrontarsi, in cui chiunque ha il diritto di esprimere la propria opinione cosa che non è stata durante questo festival dell'economia in cui le conferenze online erano aperte solo a pochi prenotati per la maggior parte chiaramente giornalisti. Appunto come dicevi prima Andrea al Climate Camp l'obiettivo è creare questo spazio anche lì, uno spazio aperto di discussione e di dialogo e questa cosa è sicuramente stata resa complessa anche dal periodo pandemico e quindi chiedo anche un po' a entrambi in questo periodo in cui le relazioni sociali e interpersonali si sono inevitabilmente ridotte, si sono dovute ridurre come hanno affrontato i movimenti, queste sfide e cose? Quali sono i metodi di uscire da questo stallo del non potersi vedere, non potersi incontrare? Ma guarda, secondo me siamo ancora in una fase di elaborazione del lutto nel senso che è chiaro che la pandemia ci ha fatto retrocedere di parecchio rispetto a quello che stavamo formando prima cioè io ricordo che c'è stato un periodo molto fervente dove le assemblee del coordinamento si tenevano anche una volta a settimana, qualche volta due ed era chiaramente l'interazione in presenza che abbiamo parzialmente tamponato con i miseri momenti online ma chiaramente uno schermo non può sostituire tutto questo quindi l'unica soluzione che in questo momento vedo io è tornare alla presenza materiale non riesco a immaginare un futuro efficace per le lotte a cui stiamo andando incontro che si realizzi attraverso il mezzo di un cavo mi sbaglierò magari sì ma Io mi collego direttamente perché sono molto d'accordo diciamo che anche le nostre pratiche il nostro tipo di agire implica direttamente e coinvolge direttamente subito i corpi noi pensiamo che sia necessario tra virgolette mettersi in gioco e mettere in gioco il proprio corpo la propria corporeità sia nel cercare appunto magari di bloccare che sia una miniera oppure come è stato ieri a Monaco il salone dell'auto il salone internazionale dell'auto che è stato bloccato da appunto da centinaia di attivisti di Andeghelende la corporeità è una parte fondamentale è una parte fondamentale anche proprio per la relazione perché una delle cose che credo che questa pandemia questa sindemia ha tolto, ha portato via è proprio una serie di elementi relazionali che davamo per scontati e dentro questo anche la maniera con cui si è risposto a questa sindemia ha esacerbato un'atomizzazione un sentirsi più soli un agire sempre più individuale rispetto a a quello che è poi effettivamente la nostra comunità la nostra comunità è intesa come le persone con cui noi interagiamo le persone con cui condividiamo la nostra vita quotidiana che ci siano simpatiche o meno comunque fanno parte delle nostre comunità e quindi credo che la cosa fondamentale sia giustamente trovarsi, scendere in piazza adesso domani ci sarà l'assemblea nazionale di Rise Up a Milano per la costruzione del Climate Camp e della manifestazione del 2 ottobre sempre a Milano vedremo come andrà il 24 settembre il Global Strike di Friday for Future ma appunto i prossimi passi da fare gli strumenti da utilizzare è proprio cercare di costruire come magari io penso che sia successo in questi giorni del festival momenti di socialità momenti di costruzione di comunità in cui stringere relazioni in cui cercare di immaginarsi meccanismi di cura uno verso l'altro e cercare di capire come entrare in complicità e un po' iniziare a darsi una mano partendo veramente dal basso con meccanismi di mutualismo e meccanismi anche di autodifesa verso varie forme di aggressione che avvengono sui corpi e sui territori quindi io penso che la solidarietà, la complicità e la comunità siano tre parole che in questo momento possono essere degli ottimi strumenti che abbiamo in mano per cercare di ripartire grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti